salve a tutti ragazzi buona domenica buona domenica quando mi arrivano determinati messaggi mi si apre il cuore perché mi si apre il cuore perché finalmente avete capito lo spirito del gioco giocare poco basta poco per arrivare a delle belle soddisfazioni si gioca poco la speranza è beccare una quota alta un terno una quaterna che vi faccia lievitare il soldino che avete messo così si fa ragazzi e questi cedolini per me sono i più belli i migliori non i cedolini dove andate a caricare 50 100 euro no perché quando caricate 50 100 euro e si perde vi farete male quando andate a caricare 50 100 euro e fate vedere la vincita però poi non fate vedere le vincite nei mesi successivi quanti gliene avete riportato una marea una ma quella non li fate vedere invece no questi sono i cedolini belli ragazzi forse cinque forse cinque dei miei grazie innanzitutto starò accogliendo tutti messaggi tutti i cedolini vincente che se ne è una marea una marea e domani domani con tranquillità vorrei fare un video un video posso fare un film a stile benuri avete presente i telenovelli benuri che sono benuri un film che dura tre ore oppure una telenovella a scavesaura oppure una telenovella beautiful dallas beh potrei fare un film alla dallas appuntate quanti cedolini vincenti e quanti ne stanno arrivando io godo godo ma però vedete l'amici con le tecniche date in omaggio grazie signor badessa al quarto colpo terno con forza cinque vedete che c'è chi usa le mie tecniche grazie per il merdo dato in omaggio con la vincita potrò fare dei bei regali a figli e nipoti che bellezza noi andiamo a vedere forza di cinque andiamo a vedere di nuovo e ve l'ho data ragazzi ve l'ho data in omaggio è certo che ve l'ho data in omaggio andiamo a vedere forza di cinque del 2 12 cosa vi dava 84 89 79 e 74 1 2 3 4 e quarto colpo non si quarto colpo quarto colpo il terno e se gli amici vedete 84 74 e 89 avessero avuto la tecnica la tecnica non la tecnica la previsione della tecnica 14.000 questa al mio paese al mio paese sarebbe stata una quaterna perché ieri abbiamo spaccato 88 89 riflettete con le mie tecniche vedete unendo milano mi dava questo forza 5 il terno e la tecnica 14.000 mi dava 88 89 sarebbe stata una quaterna e poi chi lo sa possibilmente arriveranno i cedolini e mi arriverà la quaterna dal terno forza 5 misto a 88 89 perché ancora devono inviare i cedolini cedolini quanti messaggi centinaia salvo domani te ne invio salvo te ne invio lunedì ma non c'è problema ragazzi ma andiamo ad analizzare questo bellissimo terno tecnica data in omaggio vedete forza 5 e ribadisco ancora forza 5 se io vado indietro vedete il 30 11 70 e 75 video a cagliari palermo e 70 e 75 spaccato a palermo ambo una potenza ma andiamo a vedere ora l'amico in questione cosa ha fatto bene ha fatto un terno in quartina tutte 74 79 84 89 e già sono 145 euro queste vedete si gioca poco si gioca poco fate bene giocare poco poi la speranza di beccare la quota alta che vi farà lievitare il vostro euro il vostro soldino bravi così dove questi mi piacciono i cedolini ambo 84 89 145 qui altri 115 sono qui sono 200 200 260 e poi ce lo mettiamo il terno dice ma hanno messo 45 centinaia vedete attenzionate questa è la giocata perfetta perfetta cosa hanno messo 1 euro e 50 all'ambo si sono fatti 3 ambi e già sono 100 euro solo qui poi hanno messo 45 centesimi ma su è poco no no è giusto perché hanno beccato la quota alta questi 45 centesimi sono lievitati a 450 euro e se li usciva la quaterna aiaiaiaia poi hanno fatto gli ambetti vabbè gli ambetti li mettiamo perché è uscito l'88 sono altri 15 euro perché 10 volte la posta forse ne hanno fatto più di uno ambetto no forse sicuro più di uno ne hanno fatto ambetto una volta che c'è il terno si per cui hanno preso qua dei bei soldini dei bei soldini giocando poco ma per me è già una soddisfazione vedere la tecnica forse 5 usata 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 ora tanti di voi che mi seguite su youtube ah se la usavo anch'io ah e vi avevo fatto vedere che il giorno prima aveva dato il 70 e il 75 e vi ha premiato perché di questi terni di questi terni ragazzi ne dovevano arrivare a centinaia per non dire migliaia centinaia e ne dovevano arrivare ripeto parecchi da una tecnica data in omaggio comunque felice per gli amici che bellissimo terno da una tecnica creata la sottoscritta e data con tutto il cuore vedete questi sono i risultati io ne sono felice che bei soldoni si è intascato giocando poco complimenti complimenti ora da parte mia faccio il buono sto attendendo fino a domani domani mattinata da mattinata quanti cedulini ancora arriveranno e poi li racchiuderò farò un bel video un bel video un bel video mamma mia e come godo come godo con questo giudo forza gink un'altra perla da collezione ciao a tutti e buona domenica a tutti e buona domenica